Hackers, Heroes of the Computer Revolution, di Stephen Levy, esplora l'evoluzione dei pionieri dell'informatica. Il libro traccia le origini della cultura hacker, dalle prime comunità fino alla nascita di giganti come Apple e Microsoft. Levy esalta la mentalità creativa e ribelle dei suoi protagonisti, mostrando come abbiano plasmato il mondo digitale con innovazione e audacia. Dai laboratori di MIT agli albori di Silicon Valley, il libro offre uno sguardo coinvolgente sulla storia dei geni informatici e il loro impatto duraturo sulla società.